Ciao, sono Duke, questo è il video sullo snapshot 13V41A e 41B. La novità principale sono i vetri colorati, che possiamo craftare andando qua alla nostra workbench, mettendo del vetro normale attorno e un colorante al centro. Con quindi 8 unità di vetro e 1 di colorante, otteniamo 8 cubi di vetro colorato. I colori disponibili sono 16 in tutto, sono questi che vediamo qua, 4 gradazioni di grigio dal bianco al nero, poi questi due viola, un rosa e così via, insomma, i soliti colori. Possiamo anche realizzare dei pannelli di vetro colorato, per farlo dobbiamo disporre 6 unità di cubo di vetro colorato e otteniamo ben 16 pannelli colorati. Eccoli qua. Qua ho disposto solo dei cubi, però posso anche disporre ovviamente i pannelli. Tra l'altro parlando di pannelli, ci colleghiamo alla seconda novità di questo snapshot. Adesso le barre di metallo e pannelli di vetro si collegano fra di loro ed anche con i cubi di vetro. Non so quanto spesso possa capitare di collegare delle sbarre di metallo ad un cubo di vetro, ma se desiderate farlo, ora potete farlo con un risultato estetico decisamente migliore, perché prima, quando mettevamo vicino dei cubi di vetro o anche dei pannelli di vetro a delle sbarre di metallo, questi non si collegavano, rimanevano con questa forma a croce che hanno adesso quando sono da soli. Ci sono un paio di cose da approfondire riguardo a questi vetri colorati. Il primo è che purtroppo la luce che attraversa il vetro colorato non va a colorare le superfici che ci sono dietro, quindi vediamo che qua non si proietta il verde su questa lana bianca purtroppo. E dico purtroppo perché sarebbe ottimo poter fare delle vetrate, dei disegni col vetro colorato e vederli proiettati sul muro che ne è dietro, quindi fare una sorta di effetto da vetrata nella chiesa, è una cosa molto bella, purtroppo non si può fare. La seconda cosa è che quando noi mettiamo due colori uno dietro all'altro, il colore che noi vediamo non è il risultante della somma di quei due colori, ma è sempre il primo, quindi il colore qua della parte centrale è identico a quello che vedo qua, anche se qua dietro c'è rosa. Se guardo attraverso posso vedere che i bordi là dietro sono rosa, ma la parte perfettamente centrale è identica, non c'è una differenza, quindi non possiamo sommare i colori. Questa sarebbe un'altra cosa che sarebbe interessante, quindi dobbiamo limitarci ai colori che abbiamo. La terza novità è tecnica ma è importante, è stato riscritto parte del codice che riguarda il networking, cioè il collegarsi ai server, e adesso, come detto, parte del codice utilizza API di un servizio esterno che si chiama Netty. Questo Netty, ora non voglio dilungarmi troppo, ma se volete più informazioni potete andare sul sito netty.io e trovare maggiori informazioni, non riguarda proprio tutto il networking, ma solo una parte è stata quindi deviata su questo Netty. E questa cosa è abbastanza interessante perché, se è stato fatto, vuol dire che puntano a garantire un'esperienza migliore con meno lag per quanto riguarda la multiplayer, questo senza dubbio sempre più che positivo, secondo me. Vediamo come andranno a parare, nel senso che per ora solo una parte del codice del networking è stato riscritto e non so se vogliono farlo tutti, oppure tutto, oppure se era solo una cosa così, parzialmente modificata. Stiamo a vedere, speriamo che quello che ci portano sia buono e che ci sia meno lag in multiplayer da ora in poi. È stata cambiata la schermata in cui noi inseriamo i server multiplayer, o meglio, sono state cambiate delle caratteristiche. Adesso, ovviamente, avendo io uno snapshot e i server a cui cerco di connettermi, che cerco di visualizzare, invece hanno l'ultima versione stabile, non posso connettermi e mostrarvi quindi la vera natura di queste modifiche, ma posso comunque descrivervele. Innanzitutto è stata aggiunta un'icona per i server, che come ho detto ora non la vedo, ma sarà qui a sinistra. Inoltre, dove ora c'è scritto can connect to server, i server admin potranno specificare un messaggio, che si chiama message of the day, messaggio del giorno. Questo potevano già farlo, ma da ora in poi potranno farne uno lungo due righe, mentre fino ad ora non era una cosa supportata. Inoltre, qui, a sinistra dell'icona del stato della connessione, normalmente c'è scritto quanti player ci sono nel server, ad esempio 10-16, quindi 10 su 16. Da questo snapshot, passando il mouse sopra questo 10 su 16, vedremo un elenco di tutti i giocatori sul server, i loro nomi. Quindi, non so, ci passo sopra il mouse e vedo che mi dice Duke, qualcun altro, qualcun altro ancora e così via. E questo è abbastanza interessante, così possiamo vedere chi è sul server. Quindi direi che anche questa cosa è positiva, non mi domando cosa succederà su quei server da 100 persone, quando passiamo il mouse sul numero dei player, però immagino che ci avranno pensato. Dopotutto non è una cosa così difficile. Questo è tutto. Come è facile capire, era uno snapshot molto piccolo. Le novità sono state praticamente tutte aggiunte col 41A, e il 41B, come da norma, ha corretto qualche bug. Uno dei più rilevanti era che il tappeto non prendeva fuoco, e questa cosa è stata sistemata. Niente di grosso, niente di che per quanto riguarda i bug fix. Quindi questo snapshot si può riassumere sostanzialmente in vetro colorato e in sbarre di vetro, pannelli di vetro che si connettono. Non mi pare il caso di dare un voto, anche se tutto sommato, questa cosa dei pannelli di vetro, per le pixel art e tutte le creazioni decorative, potrebbe anche influire abbastanza. Qualcuno potrebbe decidere di fare nuove pixel art o essere ben ispirato. È tutto per oggi, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video.